Amputavano le orecchie e le code ai cani di razza pregiata per conferire loro un aspetto più aggressivo e poter lucrare dunque sulle mutilazioni vietate, ma i carabinieri forestali del nucleo CITES di Ancona hanno interrotto la catena dell'orrore e denunciato 40 persone. Vasta operazione su scala nazionale, quella conclusa nei giorni scorsi con la chiusura delle indagini preliminari, la denuncia di 40 persone di cui 29 allevatori e 11 medici veterinari accusate di maltrattamento animale, traffico internazionale di cuccioli, certificati veterinari falsi ed esercizio abusivo della professione. Sono state 52 le amputazioni illegali di orecchie e code di cani Corso, Pitbull e Dogo Argentino eseguite tra il 2017 e il 2019 nelle province di Ancona, Macerata e Cosenza. L'attività è iniziata su segnalazione del servizio veterinario di Iesi, abbiamo accertato 52 concettomizzazioni, cioè amputazioni delle orecchie e delle code dei cani, sono state fatte solo ed esclusivamente per fini estetici e pertanto sono espressamente vietate dalla Convenzione di Strasburgo. Questi animali venivano sottoposti quindi alle amputazioni con punti e interventi che non erano necessari per la loro salute. Alcuni di questi animali sono stati anche esportati, quindi appetibili proprio al commercio sono stati esportati negli Stati Uniti con documenti falsi attestanti un'età superiore rispetto a quella effettiva e con documenti attestanti una vaccinazione antirabbica peraltro non eseguita. In tutto il territorio dell'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, resa esecutiva in Italia con la legge del 4 novembre 2010, è vietata all'amputazione delle orecchie della coda dei cani eseguiti per i soli fini estetici. I cani ovviamente acquisivano maggior valore, il veterinario percepiva una quantità di denaro pari a 200-250 euro per ogni intervento, in alcuni casi gli interventi venivano ripetuti proprio per rifinire le orecchie degli animali, proprio per dare esteticamente una silhouette più aggressiva ai cani e questi animali poi venivano venduti a 1200-1400 euro cada uno.